Il tempo era bello Il tempo era il flesso contemporaneo A metà pomeriggio Hai piegato a metà? Così Ok Poi potrai piegare No Poi 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 ... ... ... ... ... ... come hai dato il primo maggio a 100 giorni? è lavorato ma qua ci sono le ragnatezza ma 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 la mia a Davide mi ha risposto che c'era poca gente guarda che pazzesco guarda che pazzesco guarda che pazzesco guarda che pazzesco guarda quello da pazzesco guarda qualsiasi sei a assessments kg ha rubato il fennetto è che poi dice ho una vita a testo dice dice ma voi non c'erano io sono 5 giorni ma oggi io fico il giorno di vacanza e no vai 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 poi mi rende un bicchiere per ieri e per ieri poi la metto su youtube vai 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 no no mi piace che io mi chiede una cosa però anche la parecità come si vuole quindi puoi anche la idea che aprile perché si vuole tutto il calore della casa proviene da te come tutto birra ah ok come lo spostro no questo è un pezzo qua no non si vede più niente bene ragazzi oggi pomeriggio avete filmato su youtube ahahahah in casa di Mario Mario fai il saluto all'operatore parangione rosso non c'è neanche più barramento perfetto come è stato il barramento bene